Salve a tutti, benvenuti in questa nuova top sul canale del Rochat E' passato davvero tanto tempo ragazzi l'ultima top Infatti in queste ultime settimane ho pensato e ripensato a quali nuovi top 5 potevo portare sul canale Oltre a quelle di Pokémon Sole e Pokémon Luna E finalmente sono arrivato ad una conclusione Ho trovato ragazzi una nuova tipologia se così possiamo dire di top In cui vi parlerò ragazzi delle migliori origini dei Pokémon E quest'oggi per cominciare parleremo delle migliori origini Per quanto riguarda i Pokémon della regione di Kanto Se ragazzi questa tipologia di video vi piacerà questa nuova tipologia di top La prossima top che vi porterò sarà quella sulle migliori origini per quanto riguarda i Pokémon della regione di Yoto Quindi ragazzi per farmi capire se questa top vi è piaciuta Vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento con la vostra prossima top O comunque con le vostre opinioni e la bella iscrizione al canale Quindi ragazzi non perdiamo ulteriore tempo e partiamo subito con la top 5 Sulle migliori origini per quanto riguarda i Pokémon della regione di Kanto Quindi partiamo Al quinto posto Magikarp Allora ragazzi vi sembrerà un pochino foda la mia scelta inizialmente di mettere Magikarp in questa top 5 Sulle 5 migliori origini di Pokémon di Kanto Ma lasciate un attimo che mi spieghi Perché ho appena letto la vera origine di Magikarp Sono rimasto piacevolmente sorpreso Infatti come tutti sapete ovviamente Magikarp è basato su una carpa Una carpa anche abbastanza levole Dato che la prima mossa che impara praticamente è una mossa splash Però c'è un però Questa mossa splash potrebbe essere più utile del previsto Infatti ragazzi Magikarp è basato su delle carpe provenienti da una leggenda cinese Secondo questa leggenda ragazzi le carpe che riescono ad attraversare a risalire una cascata Si trasformeranno in draghi Ed ecco qua che entra in gioco pure l'evoluzione di Magikarp Ovvero Gaios Ed eccola qui ragazzi la motivazione per la quale Una debolissima carpa ovvero Magikarp Si ruolve in un drago praticamente Gaios che comunque sia non è tipo drago Ma ricorda moltissimo un drago il buon Gaios Difatti puoi imparare anche mossa tipo drago come per esempio drago danza E quindi ragazzi è veramente particolare questa cosa Io non sapevo che Magikarp era basato su queste carpe di una leggenda cinese E possiamo anche dire che questa è praticamente una metafora che ci viene data dalla game flick Cioè una persona debole può diventare molto molto forte Superando certi ostacoli Ossia il Magikarp risalendo la cascata Che è un ostacolo veramente molto molto imponente Può diventare una creatura completamente diversa e molto molto forte Al quarto posto Arbok Allora eccolo qua uno dei pochi non preferiti di prima generazione Nonché membro del Team Rocket nell'anime di prima generazione Insieme a Jesse James e Mayo Allora ovviamente tutti sapete che Arbok è basato principalmente su un cobra Infatti se leggiamo il suo nome al contrario viene fuori appunto la parola cobra E in particolare ragazzi dato che ha delle specie di segni sul petto Arbok è basato sul cobra dagli occhiali Ma non è finita qui Infatti se fosse finita qui solamente col cobra sarebbe troppo troppo facile questo rigide Ma Arbok ragazzi è basato anche su un basilisco Un basilisco è una creatura mitologica presente nelle leggende greche E' una specie di drago serpente velenoso ovviamente Che paralizzava e uccideva il nemico solamente con lo sguardo Quindi Arbok si può basare anche su un basilisco Questa è una cosa che io non sapevo E mi ha appunto sorpreso questa cosa E avete notato anche un atto particolare riguardo Arbok e il basilisco Arbok e Ekans in particolare erano gli unici Pokémon a prendere la mossa Bagliore Che successivamente in sesta generazione è stata rinominata sguardo feroce E quindi ragazzi questo è un riferimento puro al basilisco Infatti il basilisco poteva paralizzare, pietrificare con lo sguardo Ed ecco appunto che Arbok e Ekans in prima generazione potevano imparare Bagliore Bellissima origine secondo me, mi piace veramente un sacco Al terzo posto Hypno Allora ragazzi diciamo che nei giochi Pokémon Hypno si viene presentato come un Pokémon tutt'altro che buono Anzi è un Pokémon malvagio veramente Sui due G hanno storie abbastanza raccapriccianti Rarpisce bambini, veramente tormente le persone Ma ragazzi Hypno in realtà è basato su una creatura benigna E questa cosa mi ha stupito veramente tantissimo Infatti il buon Hypno di prima generazione è basato su un Baku Il Baku è uno Yokai Cioè uno spirito Sicuramente avete sentito la parola Yokai dal videogioco Yokai Watch Che è uscito anche in questo periodo E appunto uno Yokai Cioè uno spirito Una creatura leggendaria della mitologia giapponese Che è però benigna E questa cosa è veramente stranissima Perché Hypno è Io lo conoscevo come un Pokémon cattivissimo, maligno Un Pokémon perfido E invece Hypno è basato su un Baku Una creatura benigna Praticamente ragazzi in Cina si attribuisce ai Baku Nella capacità di allontanare il male Ma soprattutto è conosciuto questo esser mitologico Per la sua capacità di divulgare gli incubi degli esseri umani E la sfortuna che li accompagna Addirittura in alcune zone In particolare in Cina Una persona che si risveglia da un incubo Recita la frase Cedo il mio sogno al Baku perché lo mangi Quindi ragazzi attenzione Attenzione colpo di scena Hypno è basato su una creatura buona Io questa cosa veramente non la sapevo E appena ho visto che è Hypno Venigno ho detto What the fuck che sta succedendo Qui c'è qualcosa che non va Cioè mi cade un mito con questa cosa Al secondo posto Arcanine Allora le origini del buon Arcanine Sono veramente anche queste qua Molto molto particolari E mi hanno veramente colpito appena le ho lette Allora il buon Arcanine di prima generazione È riconducibile allo Shishi Oppure Shisa Sono questi i nomi Spero di averli detto giusti Veramente se ho sbagliato la pronuncia Mi scuso non l'ho fatto apposta Sono praticamente delle creature mitologiche Ispirate a cani, leoni e tigri Le cui statue assumono le funzioni di guardiani E respingono gli spiriti maligni E al contrario attraggono gli spiriti positivi Praticamente ragazzi Queste statue di queste creature mitologiche Ispirate a cani, leoni e tigri Vengono messi fuori dalle case Dalla popolazione Fuori dalle case o sui tetti Per appunto allontanare gli spiriti maligni E avvicinare verso la casa Quindi verso la famiglia Gli spiriti benigni Quindi Arcanine è veramente un Pokémon Anche questo qua benigno Un po' come Hypno Peccato che Hypno era un po' più malvagio nel gioco Pokémon Ma comunque sia ragazzi Anche Arcanine è un Pokémon Ispirato su una creatura Specializzata nel attirare gli spiriti positivi Ma al primo posto ragazzi Come Pokémon con la migliore origine Della regione di Kanto Ninetales Era forse abbastanza scontato Alcuni di voi l'hanno anche abbastanza immaginato Perché veramente Ninetales Ha una bellissima origine E una cosa molto importante Per quanto riguarda Ninetales Sono ovviamente le nuove code Allora Circa una leggenda in Giappone Che riguarda appunto le volpi Dette anche Kitsune Kitsune è praticamente la parola giapponese Che significa volpe Allora C'è una leggenda Che riguarda sia Vulpix Che Ninetales E potremmo dire entrambi Questi Questi Pokémon Che sono legati anche dall'evoluzione Appunto Questa leggenda parla di una volpe Dalle molte code Non viene specificato quante inizialmente Capace di sputare fuoco E di creare illusioni Con una vita estremamente lunga Dove avrebbe vissuto per un lungo periodo Queste creature Assumono delle forme spirituali E questo ragazzi Potrebbe anche essere Una ragione per cui Ninetales e Vulpix Possono imparare delle mosse di tipo spettro Come il storo di raggio O di spettro In particolare ragazzi Ninetales si basa sulla volpe A nove code appunto Infatti Ninetales a nove code Lo si capisce anche dal nome Appunto Ninetales si basa sulla volpe A nove code Che è una volpe molto anziana Dalla pelliccia argentata e dorata Si dice che questa volpe Ha bel potere della visione Appunto ragazzi Voglio soffermarvi sul colore Di questa volpe Ovvero dalla pelliccia argentata Guarda un po' Non a caso Ninetales e Shiny È argentato Ma guarda un po' Oltre la combinazione della vita Cioè veramente Anche qui ragazzi Abbiamo un'altra grandissima Leggenda Su un Pokémon E sinceramente Penso sia la migliore Della regione di Kanto Perché ha rispirato un Pokémon Veramente Molto molto bello Secondo me Quindi ragazzi Anche il progetto top Finisce qui E io spero veramente Che vi sia piaciuta Quindi Io vi ripeto Se questa top Verrà ben supportata Da parte vostra Quindi con un bel numero Di mi piace Comunque sia di supporto Da parte vostra La prossima top Che vi porterò Sarà la top Sulle migliori Per quanto riguarda I Pokémon Della regione di Yoto Quindi ragazzi Per quest'oggi È tutto Io vi ringrazio Ancora una volta Per aver raggiunto I 6.000 iscritti Nella giornata di ieri Veramente Grazie di cuore Dal Rocket Vi ringrazio tantissimo Noi ci vediamo Con un prossimo video Ragazzi Un saluto da Rocket Buona domenica E ovviamente Bye bye